Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Teleitalia. Oggi uno dei temi principali è Conte e Grillo, una sitcom, come se fosse una telenovela, una commedia, un film per la televisione, una commedia. Giuseppe, Giuseppe, o meglio, Giuseppe Piero e Giuseppi. Giuseppe Piero poi detto Beppe e Giuseppe Conte detto il Giuseppi. Vabbè, a parte gli scherzi, Grillo dice a Conte, ma perché mi devo sentir dire non ti devi occupare di comunicazioni? Cioè, ma come? Io ho fatto questo per tutta la vita e allora dico che è ora di cambiare la comunicazione del Movimento 5 Stelle. Grillo poi aggiunge, Conte deve studiare e imparare cos'è il Movimento. Vabbè, gli ho detto che io sono un visionario, lui non lo è. Certo che questo Grillo ha un'arroganza incredibile, si sente veramente al di sopra degli altri. Magari all'inizio aveva cominciato per scherzo, sono l'elevato, sono l'elevato, ma io credo che lui si senta realmente al di sopra degli altri. Senti, Grillo, non scherzare, dai. Sei un comico, hai fatto tanto ridere negli anni 80, 90, mi ricordo la pubblicità dello yogurt, no? Vi ricordate che faceva la pubblicità dello yogurt? Se lo cercate su YouTube trovate la pubblicità di Grillo con lo yogurt. Ogni tanto ha fatto ridere con le sue battute, la mozzarella 300 all'ora. Però, credimi Grillo, elevato in che senso? Sei diventato presidente di un partito e ti sei elevato perché lo hai creato, ha avuto successo e ti sei elevato come presidente, ma non credere di essere meglio degli altri. Attenzione, per me chi si loda ha veramente un complesso di superiorità. Ma lui dice a Conte che lui, Grillo, io sono un visionario, lui non lo è. Ed è lui ad aver bisogno di me, non io di lui. È lui ad aver bisogno di me. Conte ha bisogno di un partito dove trovare casa. Ce n'era uno solo che gli ha offerto lavoro, proprio il Movimento 5 Stelle. Pertanto Conte sta cercando di accasarsi, però sta cercando di accasarsi, cancellando tutto quello che è il Movimento 5 Stelle per cercare di fare una sorta di nuovo PD, di un partito di Conte. Lui vuole diventare lui, l'anchorman di questo partito. Vuole diventare il solo e unico. Vuole diventare come Salvini, Meloni, Berlusconi, il fondatore, l'unico, il leader carismatico che decide la mattina una cosa, ci ripensa al pomeriggio, l'indomani ha già cambiato idea. Ma non lo può fare, perché Grillo è il presidente e Grillo vuole comandare. Lui, come dicevo in altri video, è il Tajani del Movimento 5 Stelle, è un portavoce del comico. E caro Conte, non si può sempre fare il premier, a volte si finisce a fare il portavoce di un comico. Se la prende, caro il mio Giuseppi, ma Grillo se la prende poi con Cingolani, ministro, ed eloggia pubblicamente anche Luigi Di Maio. E c'è chi legge la mossa in chiavi anticonti. Dice sei uno dei ministri degli esteri più bravi della storia. Con applauso dell'assemblea di 90 minuti circa. 90 minuti di applausi, tipo Fantozzi, no? Era lì Di Maio che faceva così, no? E ora la corazzata Potionkin. Però, a parte questo, non vi sembra di ricordare qualcuno miglior ministro della storia? Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Eh? Ah, lei mi ricorda? Chi vi ricorda? Eh? To? Tony? Tonine? Ah, quello che dice di essere stato il miglior ministro della storia d'Italia. Adesso Grillo mi viene a dire che Luigi Di Maio è uno dei ministri degli esteri più bravi della storia? Eh beh, insomma, ci vuole un bel coraggio a dire questo. E poi ci sono segnali di riavvicinamento. Dice stiamo lavorando bene con Conte. Per lo statuto servono ancora due cinque giorni. D'accordo su tre quarti dello statuto è una brava persona. È una bella persona. È un grande direttore. Come diceva Calboni al direttore generale, vi ricordate? Calboni che cercava di far carriera in Fantozzi, che diceva al nuovo direttore il Barambani, lei è un bel direttore, è un grande direttore. Ecco, è così Grillo che ha bisogno comunque di Conte per farsi fare lo statuto. Dice è una brava persona, una bella persona. E con tocca anche il tema dei due mandati. Dice io sono per i due mandati. Farei anche una legge, ma lo metteranno al voto gli iscritti. Come dire, io sono per mandarvi a casa, però voterà la base. Come dire, poi non sono io che decide, ma saranno gli iscritti che decideranno se lasciarvi la possibilità di continuare a fare questo lavoro o a casa a cercare un lavoro. E in serata, quando sui siti campeggiano le prese di posizione del garante, i toni cambiano e si fanno più. Tranquilli. A Conte avevamo detto di prendere lo statuto e di farlo evolvere, di partire dal nostro statuto. Lui invece ha preso due avvocati e ha scritto un'altra cosa. Me lo ha dato e mi ha detto di non farlo leggere a nessuno. Io l'ho letto e tante cose non andavano. E c'è chi tra i big lo rimarca. Se Giuseppe avesse fatto sentire Grillo parte del progetto, ora non saremmo a questo punto. Che oggi non fosse il giorno dell'intesa tra Conte e Grillo lo si era capito fin dalla prima mattina, quando era imbalzata la notizia di un confronto telefonico tra Giuseppi e Giuseppe. Nessun chiarimento, non c'è un punto di caduta, dicono i due. D'altronde i mediatori sono al lavoro da giorni. Sul piatto sono state messe in campo diverse opzioni, compresi dei faccia a faccia a marina di Bibbona. Tutti senza successo. E più lo scontro è salito di tono, con tanto di voci di un passo d'addio di Conte, più Grillo ha sentito la necessità di rendere tangibile a tutti la sua centralità nel movimento. Senti, Giuseppe Piero Grillo, ma fallo tu il capo politico, ma fallo tu, vai tu a parlare con Letta, vai tu a parlare con Renzi, ci farebbe veramente divertire. Ma ve lo immaginate Grillo che va a parlare con Letta, quello con le 27 priorità e Grillo che gli dice ma cosa stai dicendo? Sveglia! Sarebbe uno spasso, eh? Grillo capo politico, ma ve lo vedete a litigare con Salvini, con la Meloni, con il Berlusca, con Renzi o con Letta o con Speranza. Sarebbe, vi prego, convincete Grillo a fare il capo politico lui. Trasferisciti a Roma, diventa tu il capo politico che praticamente andrebbe a monopolizzare la scena politica. Tutto sarebbe intorno a Grillo. Grillo ha detto, Grillo ha fatto, Grillo ha mangiato, Grillo si è addormentato alle 5. Grillo sarebbe tutto perché questo di politico alla Zingaretti ha veramente poco. Sarebbe una persona molto, molto, molto sui generis, molto di più di Di Battista, no? Se Di Battista è un personaggio sul genere lui, Grillo, li batte tutti. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.